vabbè dai cerchiamo di fare una cosa veloce dai benvenuti in questo nuovo video ragazzi video fatto al volo non è una recensione o meglio è una recensione ma non una recensione perché è un prodotto che non sto recensendo come si fa canonicamente ossia facendo i test benchmark eccetera eccetera perché non me ne frega assolutamente niente ci sono 3000 recensioni di gente più brava di me con tutti i benchmark ssd valori di temperatura eccetera eccetera questa è una chiacchierata come piace a noi o perlomeno come piace a molti a chi non piace allora mi sono segnato un po' di cose da dire ma le dirò a braccio quindi sarà una cosa un po' confusa perché ho preso questo Alienware dopo due settimane e più mi è arrivato ci ha messo veramente un botto ci ha messo più di due settimane per arrivare dalla Cina a Milano e poi da Milano a qua un giorno misteri delle spedizioni allora procediamo anzitutto con l'unboxing sempre una cosa rapida allora la scatola dell'Alienware è una scatola nera con il logo dell'alieno molto bello mi piace veramente tanto sembra l'emoji dell'alieno mi piace un casino e all'interno della scatola non c'è granché se non probabilmente quello che è un pelo pubblico del cinese che l'ha montato o che comunque l'ha inscatolato ma al di là di quello c'è il portatile avvolto in una specie di come si dice schiuma spugna però schiumosa vabbè insomma foam e una parte in scatolata in cui c'è un alimentatore che è grande quanto mezzo MacBook 12 e pesa lo stesso peso praticamente è una cosa bestiale e ovviamente il cavo di alimentazione quindi esteticamente veramente molto molto bello avete visto sicuramente qualche immagine scorrere una volta acceso c'è stata tutta la classica configurazione di Windows insomma nella quale ho messo il mio account eccetera eccetera dopodiché l'ho subito preso, rigirato, ho aperto, ho svitato il coperchio sotto ed ho montato una SSD della Crucial da 500 GB che avevo preso già da un'altra parte perché anzi andiamo direttamente prima a raccontare questa cosa si svitano le due vitarelle che ci sono sotto il coperchio si fa forza, si fa leva con una scheda telefonica perché è veramente incastrato bene forse pure troppo e poi si cerca di montare, di trovare la dritta per montare sta cazzo di SSD M.2 che non ho mai montato e che quindi ho dovuto cercare di capire come fare che cosa è successo però? Questa SSD della Crucial io non lo sapevo mi sembra che ci sia qualche problema, è troppo corta ho visto qualche tutorial su YouTube e ho visto che ci sono delle SSD M.2 che sono più lunghe io ovviamente non mi sono informato prima, ho preso la prima, quella che costava di meno l'ho montata e ho cercato di montarla meglio con un po' di nastro adesivo mettendo la vite perché è troppo corta e non arriva alla vite ovviamente non fatelo assolutamente a casa, io l'ho fatto ma ci installo quello che ci deve installare provo il portatile, dopodiché restituisco questa SSD e me ne faccio arrivare una più lunga non so la differenza tra queste due comunque detto questo ho richiuso il coperchio, ho rigirato il portatile e mi sono reso conto che ho fatto tutto a portatile acceso in stand by dopo aver pianto un pochettino sono ritornato alla configurazione ed ho iniziato a installare le mie cose Steam, il backup che tra l'altro mentre sto parlando sta ancora installando, dei giochi eccetera eccetera l'SSD la ricambierò ovviamente nel momento in cui proverò il portatile innanzitutto per rendermi conto se il portatile va bene allora estetica veramente molto molto bella, è un portatile che è molto aggressivo è ovviamente un portatile orientato al gaming, ci sono tantissime luci, il trackpad si illumina c'è un programma per impostare tutte le lucette e i vari colori si può scegliere che colore utilizzare, si può scegliere se vogliamo farlo lampeggiare se vogliamo che i colori ciclino tra loro ciclino, vabbè, insomma cambino il gradient dei colori e insomma si possono fare tutte queste figate ma soprattutto il trackpad è veramente figo, molto bello il touch funziona abbastanza bene, anche le gesture di Windows 10 funzionano abbastanza bene è un buon touchpad, non è ai livelli ovviamente di quello dei nuovi MacBook però comunque è un ottimo trackpad, touchpad, trackpad ed è molto soffice al tatto, molto morbido anche la scocca del portatile è abbastanza morbida, non è plastica dura una cosa che non mi è piaciuta assolutamente, di primo a chitto poi magari ci faccio l'abitudine è la tastiera che per via dei tasti funzione che ci sono a sinistra è spostata un po' verso destra, non è completamente centrata è una buona tastiera, non si abbassa troppo però non è che mi ha fatto impazzire detto questo, non faccio benchmark, non vi faccio una recensione hardware eccetera eccetera vi dico la configurazione è un i7 se non sbaglio 6700HQ con 8 GB di RAM a bordo, 1 TB di hard disk, l'hard disk fisico e soprattutto una GTX, GeForce GTX 980M con 8 GB GDDR5 a bordo ovvio non è una 1080, ovvio non è una 980 GTB PPT però insomma dovrebbe essere una buona scheda video per far girare i giochi come girano i giochi? non lo so perché ancora non li ho provati nel momento in cui sto girando questo video sicuramente giraranno bene se avrò qualche considerazione da fare la farò alla fine dopo la parte dei giochi che arriverà in questo momento altrimenti lascerò solo i giochi e lascerò a voi il giudizio io comunque imposterò i giochi al massimo dei dettagli in modo da, cioè al massimo dei dettagli che mi permetterà poi di farli girare almeno a 60 fotogrammi al secondo vi saluto, vi lascio ai giochi e ciao! ciao 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 allora vi avevo promesso che sarei tornato in caso avessi avuto qualcosa da aggiungere ed eccomi qui un video sempre ancora breve una grippettina abbiamo quasi finito allora io sto montando adesso il video ho registrato tre giochi sono tre giochi di fascia alta sono Rise of the Tomb Raider Fallout 4 e Mad Max perché ho scelto questi tre giochi? perché erano quelli un po' più pesantucci della mia libreria ovviamente non è che mi metto a comprare 20.000 giochi per provare il portatile ci gioco a quello che ho acquistato e che ho preso nel tempo su Steam allora i giochi sono andati benissimo veramente molto molto bene sono molto soddisfatto del prodotto nel frattempo l'ho utilizzato un pochettino perché tra la registrazione di questa clip e quella iniziale è passata praticamente mezza giornata perché poi ho dovuto scaricare eccetera eccetera l'unico neo di questo portatile che mi sento di dire in questo momento è lo schermo lo schermo è un full hd è veramente un ottimo schermo è uno schermo ips però ha un angolo di visione che non mi piace tantissimo vira un pochettino troppo purtroppo è un problema noto anche se per esempio lo schermo del macbook è molto molto più brillante come dire è un po' spento quello è uno schermo opaco a differenza di quello del macbook che è lucido però non fa niente è abbastanza luminoso avevo paura per la luminosità invece è abbastanza luminoso per il resto anche le ventole avevo paura fosse molto rumoroso invece le ventole non è che partono cioè partono però non sono rumorosissime poi avendo un po' di volume di gioco alla fine non si sentono proprio veramente ottimo tra l'altro sotto non ve l'ho fatto vedere però ve lo racconto se vedete nel momento in cui lo giro si vedono ci sono dei piedini quindi il portatile è abbastanza sollevato ci fanno più o meno un 3 centesimi messi una sopra l'altro in modo da far defluire l'aria quindi diciamo che il tavolo diventa bollente ma il portatile non scalda moltissimo perlomeno per quel poco che l'ho usato adesso ultima nota me lo farete notare sicuramente Mad Max non era risoluzione full HD non me ne sono accorto quando ho messo le impostazioni ma non credo che ci siano problemi Fallout 4 ad ultra è andato proprio senza il minimo problema Tomb Raider invece ha qualità molto alta quindi la massima oscillava tra i 45 e i 60 fps se non l'avete visto stavano in alto a destra gli fps e credo che sia un ottimo risultato comunque per un portatile ma basta togliere il molto alta togliere un po' di campionatura tutte quelle cazzate là che servono e non servono e si avrà il gioco in full HD senza il minimo problema molto soddisfatto so che molti potrebbero dire eh ma c'è l'Asus Rogue eh ma c'è l'Lacher Predator eh ma c'è questo eh ma c'è quello ce ne stanno un miliardo ragazzi a me piaceva l'idea dell'Alienware mi piace il concetto dell'Alienware mi piace l'estetica dell'Alienware è veramente bello 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 sto portatile tra l'altro me lo aspettavo veramente molto più grosso più pesante invece è bello per adesso sono molto molto soddisfatto se ci saranno novità ve lo farò sapere in un video nel canale mi raccomando di iscrivervi al canale Telegram FG Foto YouTube Channel e ciao